Aprite il cancello! Sì, è la mia! Aprite! Aprite, per favore! Aprite! Adesso la sposto, abbiamo cose più importanti da fare! Aprite! Che vuole fare? Aprite! La sposto, la sposto! Arianna! Ridatemi mia figlia! Rosa! Rosa, ecco l'Arianna! Eh? Che succede? Su quella macchina! La stanno portando via! Arianna! 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 Arianna!